E' la salita in camera di un nostro cliente. Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute. Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina. Diana, come si sente? Non lo so, è tutto buio. La riabilitazione ti renderà autonoma. E cosa vedi? Una ragazza che corre con le cuffie. Furgone bianco patteggiato. Cosa? Un furgone bianco patteggiato. L'unico sopravvissuto è il bambino di dieci anni che si trova in un istituto d'accoglienza. Posso aiutarti? È il furgone bianco! Hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua. Aiuto! 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 Qui è altra?